Il Castellani è una buona squadra e sembrava quasi chiusa sul 4-2 ma poi sappiamo che questo è uno sport strano non sono mai chiuse le partite abbiamo fatto un paio di errori ma ripeto, merito anche all'avversario che è in campo ma sono contento il pareggio ci può stare la settima giornata anzi l'ottava è questa quindi voglio dire, alla fine due pareggi e sei vittorie va bene e poi dobbiamo considerare che è un campionato anomalo con tre promozioni quindi far punti è importante sempre e comunque Ti chiedo però, giocando in posticipo se dal punto di vista psicologico la pressione di dover vincere per andare da solo in testa alla classifica ha pesato nello spogliatoio? No, non credo la squadra è matura gente che gioca ormai da tanti anni no, non credo sia sia stato questo a pesare sul risultato che ripeto, non è da buttare via insomma, alla fine l'abbiamo riagguantata l'avevamo persa e riagguantata ci può stare, no, no secondo me è forse un calo fisico che dobbiamo valutare perché è la seconda volta che ci capita ci è capitato anche a potenza quindi vuol dire che dobbiamo lavorare forse un po' di più per riprendere le forze Anche perché sabato prossimo c'è il match clou della stagione perché si va in casa del Dream Team Palo in pratica un match importantissimo siete in quattro lì a giocarvela in questo momento in tre visto che comunque la Diaz sembra leggermente staccata che partita ti aspetti sabato prossimo a Binetto? Intanto una partita aperta perché sono due squadre che giocano noi non amiamo fare le barricate giochiamo ovunque alziamo il baricentro abbiamo giocatori di qualità questa è la verità per cui fare bene la fase difensiva anche in una posizione di campo più alta per poi ripartire oppure giocare palla prendere palla e andare dentro l'abbiamo visto che i ragazzi hanno anche qualità tecniche individuali notevole una bella partita mi aspetto Maicon una partita dei due volti la commentavamo anche con Mr. Mascolo ti chiedo un'impressione a un certo punto sembrava che ormai fosse in ghiaccio questa vittoria poi cosa è successo? è successo che abbiamo avuto due minuti di blackout loro ci hanno creduto hanno riecomantato la partita siamo andati addirittura sotto meno male che siamo riusciti col portiere di movimento a recuperare la partita ma è un pareggio che non ci voleva Avete avuto difficoltà con la difesa bassa del Castellana che è il loro punto di forza sembrava proprio aver sbloccato tutto quel minuto numero due dove sono arrivati due gol in 31 secondi poi non vi aspettavate questo ritorno o che cosa è accaduto nel vostro roster? eravamo riusciti a sbloccare la partita ed eravamo tranquilli di poterla portare con tranquillità verso la fine ma loro sono riusciti a riportarsi su per errori nostri e poi è andata come è andata purtroppo l'imorginale non serve a nulla Di positivo però c'è il fatto di averla recuperata perché nel campionato di Serie B è importantissimo muovere sempre la classifica il tuo gol del 5 a 5 è un qualcosa di importante Sì, importante perché non dovevamo perderla questo punto è importantissimo anche se ci sta stretto però perlomeno ci permette di rimanere lì e di lottare con quelle tre o quattro compagini che si giocheranno all'accesso in a due Per l'appunto, big match sabato prossimo si va in casa del Dream Team Palo ci si aspetta una grande partita Resettiamo tutto impariamo dagli errori e siamo subito pronti per il big match di sabato